Si carica di ufficialità la tournée del Coro Idica in Argentina. I rappresentanti del complesso di voci hanno ricevuto il ruolo di ambasciatori della valle. Hanno infatti assunto ufficialmente l'incarico in comunità montana-clusone. Siamo orgogliosi di poter portare in Argentina un po' della nostra cultura, tradizione e storia, ha affermato il presidente dell'ente Eli Pedretti. Voglio ringraziare già da ora il Coro Idica, ha dichiarato l'assessore al turismo e cultura Guido Fratta. Grazie a loro, il nostro marchio e le bellezze artistiche e naturali della nostra valle saranno pubblicizzate oltreoceano, conclude Fratta. Sono passati cinque anni dall'ultimo viaggio dei coristi. Ora si torna in Sud America dopo essere già stati in Brasile e sempre con il ruolo di ambasciatori del canto bergamasco e lombardo nel mondo. Gli 85 partecipanti, tra cui oltre ai 28 coristi e allo staff tecnico, si segnala anche il consigliere regionale Valerio Bettoni, partiranno domenica il 17 ottobre. Mercoledì 20 il gruppo sarà inoltre raggiunto direttamente a Buenos Aires dell'assessore provinciale alle politiche montane Fausto Carrara, in rappresentanza della provincia. Ci esibiremo in diversi luoghi, ha spiegato il segretario dal coro idica Gian Pietro Trussardi. Abbiamo trovato da subito persone che ci hanno dato una mano nell'organizzare eventi e manifestazioni, soprattutto grazie agli amici dell'Associazione Bergamaschi nel mondo. Tra i numerosi appuntamenti abbiamo in programma un incontro con l'ambasciatore d'Italia alle 11 di giovedì 21 ottobre, Sua Eccellenza Guido Walter Latella. Il coro idica è pronto a partire e vuole lasciare il segno del proprio passaggio, portando la voce della terra orobica ai nuovi amici che incontrerà in Sud America.